Nella Chiesa di Santo Spirito a Cirie, in via Vittorio Emanuele, tre giorni di mercatino particolare. Siamo infatti con degli ospiti particolari di questo mercatino per gli ospiti, i cani e i gatti della Lida di Cirie. Siamo con la responsabile della Lida di Cirie. Voi da quanto siete attivi sul territorio e di cosa vi occupate? Noi siamo attivi su questo territorio e anche su altri territori della provincia di Torino da 12 anni. e ci occupiamo soprattutto di animali, non sempre solo di animali, perché dentro le situazioni spesso difficili degli animali ci sono anche problematiche umane. Quindi questa volta però siamo qui per sostenere questa associazione che ha moltissimi animali in gestione, quindi animali sotto sequestro, animali che non hanno più casa perché il proprietario o non li ha più voluti tenere o non li ha più potuti tenere. E molti gatti recuperati sui vari territori. Questa volta però siamo qui per un caso particolare di due bellissime cocherine rimaste senza la loro mamma. Loro sono Arti e Daffi e da poco hanno perso la loro mamma umana. Per fortuna tu le conoscevi già, sei loro vicina di casa e te ne stai occupando. Sì, lei è la figlia, è Arti e questa è Daffi. Hanno sei anni e otto anni, sono due cagnonine educatissime, vanno al guinzaglio senza tirare, vanno senza guinzaglio e ubbidiscono. Gli piace tantissimo la macchina. Hanno bisogno di essere adottate insieme perché sono cresciute insieme. E soprattutto ci vorrebbe una famiglia che abbia del tempo da dedicare loro perché vivevano con questa signora, stavano tutto il giorno in casa con lei. Quindi è importante, non possono vivere in un giardino da sole. Vanno d'accordo con gli altri cani, non con i gatti. Non sono abituate, quindi non li amano. Si trovano a Ciriè, in questo momento appunto sono presso di te, te ne stai occupando. E sono adottabili quindi nella zona o anche in altre province? No, preferirei nella zona perché essendo io molto affezionata a loro vorrei fare un'adozione lenta, graduale, in cui ci si conosce, magari si va qualche volta in passeggiata insieme, poi le porto dai possibili nuovi proprietari e rimangono qualche ora. In più volevo aggiungere che do la disponibilità a tenerle eventualmente in periodi di vacanza, di allontanamento per qualche motivo dei proprietari e invece di dover trovare una nuova sistemazione e portarle in pensione, io do la disponibilità gratuitamente di tenerle 15 giorni, quant'è all'anno. Un mercatino quindi questo cui i proventi andranno a favore dei tanti animali che seguite, gatti, cani, è un mercatino che durerà però tre giorni in questo periodo di festività natalizie. Certo, durerà tre giorni, 7, 8, 9. Ci è stata, diciamo, questa chiesa ci è stata data dall'associazione Borgo Loreto, ci hanno dato questa possibilità proprio per poterlo, per poter esporre tutti i materiali che abbiamo, che ci sono a loro volta stati donati da persone amanti degli animali. Il mercatino sarà aperto dalle 9 e mezza alle 12 e mezza, dalle 2 e mezza alle 7 e mezza, compresa la domenica. Abbiamo bisogno di questo sostegno perché gli animali che abbiamo in questo momento sono tutti in pensione e le pensioni alla fine del mese bisogna pagarle così come i veterinari. Quindi qualsiasi cosa verrete a acquistare, a scegliere qui da noi, il ricavato andrà al mantenimento di tutti questi animali.